molto molto semplice basta andare su safari vado su sorail.com successivamente premo in basso sul tasto della condivisione che sarebbe questo qui scorri in basso fino a trovare aggiungi alla schermata home e clicco su do il nome e clicco su che già definito sorail e faccio su aggiungi a questo punto io mi troverò sul mio desktop mi troverò un'applicazione sorail che non è l'applicazione ma che semplicemente il collegamento della pagina del browser safari sul mio desktop io cliccandoci sopra in automatico avrò la mia schermata di sorail diversa da quella che abbiamo sul browser perché vedete è a schermo intero quindi è molto più facile e bella da utilizzare facendo su accedi facciamo il logo praticamente il sito di sorail sul telefono lo possiamo utilizzare con tutte le sue funzionalità che abbiamo sul computer e quindi poi abbiamo il tutto tutto ciò che avevamo sul computer e ce l'abbiamo sul telefono in questa maniera abbiamo creato praticamente l'applicazione sorail sul telefono e possiamo fare qualunque cosa possiamo fare andare a vedere le carte la propria panoramica possiamo andare a vedere il mercato ok quindi possiamo fare offerte acquistare fare qualunque cosa che si può fare dal computer sul telefono questo è molto fondamentale per chi non ha sempre il computer a disposizione e chi vuole giocare ovunque si trova questo è un trucco incredibile quindi vi consiglio per chi utilizza un telefono apple di utilizzare questa questa tecnica per poter usufruire a 360 gradi di tutti quanti servizi che da sorail in una maniera molto più semplificata quindi abbiamo creato abbiamo ricreato con un'applicazione sul desktop che poi alla fine è semplicemente un collegamento della pagina di sorail sul sul desktop e se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale daremo tantissime info come questa e tante altre novità in futuro tra cui faremo dei video in cui insegneremo come fare mercato come fare un buon mercato e daremo anche dei consigli su degli ottimi giocatori da acquistare e vi svelerò la mia tecnica e la mia tattica che sto utilizzando su sorail e il mio progetto che ho nel 2023 grazie mille a tutti dell'attenzione io vi auguro una buona giornata sorail italian player